Ciao lettrici e lettori, bentornati su Misfiction Books, io sono Tiffany e in questo caso benvenuti nella prima puntata, anzi nella puntata zero di Fantasy Talks. È una serie che vi ho pronunciato da tanto tempo e finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo. E allora, in che cosa consiste in fondo, che cosa voglio fare? Ecco, per spiegarmi un po' più chiaramente, se chiaramente possiamo dirlo. Volevo fare una serie dedicata al fantasy per ripercorrere una serie di titoli che nella book community italiana che parla di fantasy non emergono mai, perché si tratta di tutto ciò che nella mia testa è stato prima di Twilight, cioè una serie di titoli classici, potremmo dire, del genere, che hanno determinato delle forti connotazioni all'interno del genere fantasy, che è vastissima e poi dopo ne parliamo più nel dettaglio, e che non sembrano emergere, sono stati dimenticati, non vengono fuori. Insomma, la scusa era, voglio suggerirvi dei classiconi del fantasy. Con classiconi non intendo che vi suggerirò Il Signore dell'Anelle, cioè ne parleremo, ma non è quello il mio scopo, ma tutta una serie di fantasy che i vecchiardi come me, e non solo, hanno magari letto e che vorrebbero vedere un po' riemergere all'interno dei vari consigli, e al di là dell'editoria odierna, e ciò che spunta ora, c'è qualche classico da recuperare, anche per capire un po' l'evoluzione del mondo del fantasy. Premesse su premesse, perché è necessaria un po' la puntata a zero, perché mi serve fare un po' un'introduzione, perché la suddivisione con cui ho cercato di raccorpare e raggruppare i grandi classici che vi voglio suggerire, classici del genere ovviamente, avevo bisogno di trovare una razio per suddividerli. All'inizio lo volevo fare in decadi, che poi però mi sembravano abnormi, e poi io non ho letto tutto, 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 di tutte, tutte le decadi, ma insomma, quindi alla fine il succo è che lo suddividirò per generi. E quindi, bando alle cianci, direi di iniziare, perché sarà un video un po' corposetto, insomma, prendete gli appunti, ovviamente, e benvenuti al primo Fantasy Talks. E se fosse un Talks io sarei seduta, ma invece sono in piedi di nuovo. Quindi, prima di partire con la serie infinita di suggerimenti fantasy che vi voglio dare, penso che abbiamo bisogno di fare prima un ripassone su cos'è il fantasy, penso che sia utile farci una sorta di mappa mentale che ci aiuterà a muoverci in futuro anche per, insomma, capire un po' cosa significa leggere fantasy. Quindi partiamo da un aspetto meramente storico. Il fantasy, il cui precursore è il fantastico, è un genere che si è sviluppato fortemente tra il XIX e il XX secolo, i cui elementi dominanti sono il soprannaturale, il mito, l'immaginazione, l'allegoria, la metafora, il simbolo e il surreale. In questo filone rientrano tutte quelle storie di letteratura fantastica dove gli elementi fantastici non vengono spiegati in maniera scientifica. Un tratto identificativo del genere fantasy è l'uso, da parte dell'autore, di elementi narrativi che non devono fare affidamento per forza sulla storia o sulla natura per come le conosciamo per essere coerenti. Questo ovviamente differisce dalla finzione realistica in quanto la finzione realistica deve fare affidamento per forza alle leggi della storia e della natura della realtà, mentre la fantasia no. Nello scrivere fantasy l'autore crea personaggi, situazioni, mondi, ambientazioni che non sono possibili nella realtà, proseguendo quasi sempre una serie di criteri di logica che molte volte sono gli stessi del nostro mondo. Il fantasy è stato quasi sempre paragonato e messo sullo stesso piano della fantascienza e dell'horror perché sono le principali categorie di fantastico, ma fantastico e fantasy non sono la stessa cosa. Diciamo che fantastico è il termine cappello che comprende anche il fantasy ma comprende anche gli altri due generi. Il fantastico infatti è un genere di narrazione basato sulla rappresentazione di elementi o situazioni immaginarie che esula dall'esperienza quotidiana e che è quindi straordinaria e che si ritiene non si possa verificare molto probabilmente, chiaramente, nella realtà che conosciamo. Elementi che possono definire una situazione fantastica sono l'intervento del soprannaturale o del meraviglioso come la magia o un'invenzione tecnologica futuribile, ma non solo. All'interno proprio del fantastico possiamo andare a identificare un'ampia schiera di genere differenti tra cui l'horror, il fantasy, il fantascientifico e anche il gotico. Anche se su questo avrei un po' più di dubbi, ma così dice la definizione. Il fantasy si differenzia dalla fantascienza incredibilmente proprio per la plausibilità degli elementi narrativi. Una narrativa di fantascienza è improbabile, sebbene apparentemente possibile grazie ad un'esplorazione della scienza e della tecnologia e della logica. Invece il fantasy non ha mai necessità che i suoi elementi siano scientificamente plausibili o possibili. Gli autori devono fare affidamento proprio sulla sospensione dell'incredulità dei lettori, sull'accettazione dell'incredibile o dell'impossibile, solo e unicamente con lo scopo di piacere, al fine di scrivere fantasy strutturati bene, quindi efficaci. Nonostante la forte dipendenza di entrambi i generi dal soprannaturale, il fantasy e l'horror sono molto distinguibili l'uno dall'altro. L'horror infatti evoca principalmente sensazioni di paura, di spavento, proprio grazie all'incapacità dei protagonisti di queste storie e alle loro debolezze probabilmente di affrontare e sconfiggere l'antagonista. Molti autori fantasy invece soprattutto riescono ad includere nelle loro storie moltissimo folklore e tantissimi miti che invece fanno parte del nostro bagaglio culturale reale e li traggono come ispirazione, includendo nell'aspetto soprannaturale e fantastico un elemento quasi forse più tangibile e quindi più reale, proprio perché appartiene ad un sistema culturale. Quindi no, il fantasy non è nato con Twilight, se ve lo stavate chiedendo, e se siete su questo canale io so che voi non siete qua perché avete letto solo Twilight, anche se io sono convinta di questa mia teoria che forse vi ho già esposto, che il mondo si divida in before Twilight, cioè avanti Twilight e dopo Twilight, after Twilight, soprattutto dal punto di vista del mercato editoriale, ma questo è un'altra parentesi che non staremo ad aprire in questo video introduttivo. Diciamo che prima, dopo e durante l'uscita di Twilight sono successe una discreta quantità di cose e mi piacerebbe in questa serie di video tracciare una mappa di generi, sottogeneri, accompagnati da una serie di consigli che per molti risulteranno magari un po' troppo vintage, ma che sicuramente possono tornarvi utili. Per me è venuta l'ora di rispolverare qualche classico, parlare di libri dimenticati o passati di moda, e riscoprire tutto ciò che c'era prima del grandissimo e potentissimo filone che governa BookTube del fantasy young adult per ragazzi. Io continuo ad essere vintage anche nello spirito e a chiamarlo fantasy per ragazzi, ma comunque questa è una battaglia che combatterò da sola. Faccio già un ennesima premessa, ovvero che per me, ovviamente per forza di cose, sarà impossibile segnalare tutte le serie scritte dall'umanità, ma l'intento di tutta questa serie è quello di tracciare un percorso, riscoprire alcuni titoli che hanno sicuramente definito il genere, che sono stati grandissimi successi, che hanno sicuramente cambiato il fantasy in qualche modo, oppure nel loro genere hanno cambiato il fantasy, però non posso farlo nominando tutti, se no avviene l'elenco della spesa da fare il sabato pomeriggio, e non è la mia intenzione. Insomma, iniziamo oggi un percorso legato al tempo, alle tematiche, ai generi e ai sottogeneri, e anche ai capisaldi o a quei volumi che hanno gettato le basi, sicuramente per alcuni archetipi, ma anche e soprattutto per aver avuto un grande impatto sul genere e forse anche sulla creazione dei suoi sottogeneri. Perché questa è una cosa che è capitato spesso nel corso della storia del fantasy, ma lo vedremo man mano che esploriamo le varie puntate. Sarà lungo e noioso, quindi siete sempre in tempo per abbandonare la nave. Prima di concludere il video di oggi, che è già un pippone e io mi rendo conto, volevo introdurvi brevemente generi e sottogeneri, cercando di non renderlo un elenco, cosa che a un certo punto è inevitabile, cioè perché così ci aiuterà sicuramente ad addentrarci nei meandri oscuri della mia mente malata e del percorso che ho in testa, anche se tutto è ancora molto confuso in alcuni punti, però insomma resistete. Perché penso che ogni genere e sottogeneri abbia le sue peculiarità da conoscere e che vanno conosciute, e che ognuna attira in modo molto peculiare una serie di lettori, cioè a noi tutti piace un tipo di fantasy, un genere del fantasy, e quindi è giusto forse anche conoscerli tutti per ampliare le nostre prospettive, magari esplorare qualcosa che non conoscevamo e magari farli diventare i nostri nuovi libri preferiti. Ad esempio capita spesso nella comunità fantasy che chi è molto fan di un genere o di più di un genere, ne detesti completamente altri. Invece c'è chi sperimenta su più ambienti del fantastico, oltre che del fantasy, quindi che riesca a maneggiare bene horror, fantascienza e fantasy senza alcun problema. Io ad esempio non sono una grande amante dell'horror e di fantascienza riesco a percepire solo alcuni autori molto classici, ma non è il mio genere preferito, ma anche all'interno del fantasy stesso, come vi spiegherò perché capiterà sicuramente, ci sono generi che io ho esplorato molto poco perché non fanno per me. Quindi quali sono i generi del fantasy? Allora, ho cercato di andare in ordine alfabetico, poi a un certo punto va tutto in vacca, non chiedetevi perché. Il primo è il Banksian fantasy, poi c'è il bizzarro fantasy, poi c'è il dark fantasy, l'elf punk, il fantasy contemporaneo, il fantasy medievale, il fantasy gotico, il fantasy mitico, il fantasy medievale, il fantasy mitico e mitologico, il fantasy romantico, il fantasy storico, il fantasy vittoriano, il fantasy fiabesco o fairytale fantasy, hard fantasy, non riesco mai a dire in italiano, hard fantasy, high fantasy, high fantasy storico, juvenile fantasy, low fantasy, Mao Sojo, mad fantasy, genere mondo perduto, il new weird, paranormal romance, il green dark, il romanzo fantecologico o anche dying earth genre, science fantasy, steampunk, sword and sorcery, fantasy umoristico, urban fantasy, time travel, poesia fantastica perché c'è anche quello, Shenmue o narrativa sugli dei e sui demoni, realismo magico, insomma. Più o meno questi sono tutti quelli che ho delineato nella mia testa, per alcuni ho fatto un po' di ricerca perché comunque rientrano nel tema del fantastico. Quindi niente, questo è un po' il panorama che noi andremo ad esplorare e se la Tiffany del futuro avrà voglia vi farà vedere anche una bella mappa di tutto ciò che esiste, tutto ciò che c'è, insomma da collocarle, vi farò un po' un elecchino. E nella prossima puntata invece esploreremo qualche consiglio letterario e un percorso storico letterario per darvi qualche consigli su il primo genere selezionato, che ancora devo identificare. E niente, io spero che questa prima puntata introduttiva mi abbia incuriosito e comunque vi abbia dato lo spunto per seguire le prossime puntate, insomma. Perché davvero io sento il bisogno di suggerire una serie di cose che non abbiano solo a che fare con l'editoria contemporanea. Il fantasy è un genere molto complesso che tanti conoscono poco ed è anche uno dei motivi per cui viene snobbato continuamente. Invece ci sono serie davvero incredibili che hanno segnato la mia infanzia, la mia adolescenza e tuttora che cerco... Se leggo un po' meno fantasy classico anche se mi sta ricapitando ultimamente. Quindi insomma sarei molto curiosa di vedere questo percorso dove porta a me, dove porta a voi e dove porta l'editoria italiana. Perché tantissimi purtroppo titoli che vi andrò a suggerire sono stati pubblicati tantissimi anni fa dalla Santa Editrice Nord, alcuni da altre case editrici che poi hanno interrotto le ristampe. Se pensate che un'autrice come Anne Rice non ha edizioni correnti, a me piglia male, vi giuro mi piglia malissimo. E quindi niente, io insomma sono curiosa di sapere cosa ne pensate, spero che mi seguirete, anche voi che non ne sapete nulla e non siete interessati al fantasy, però magari vi può interessare un percorso socioculturale, storico, chi ne ha più ne metta, di questa serie sul fantasy. Niente, sono molto curiosa e molto carica, quindi niente, io direi che per oggi è tutto. Grazie per aver assistito al primo fantasy talk e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!